B.J. The Boss Stavo fissando Dani Muoviti piano, stai fermo, sennò valla tutta l'immagine Non ti muovere velocemente, sennò non riesci a più Dici, dici, allora come va? Fa male? Dici Lei, Fede? Sono un po' scontrosi C'è un bimbo che si è andato a seguire Oh ma, allora, dai Non dai che manca? 20 secondi Oh madonna Direi K.O. tecnico Dai, gli ultimi 10 secondi E l'abbiamo ripreso